Il mercato coperto di Vigevano dopo la riqualificazione rimarrà davvero coperto o pioverà dentro? Frequentatori e operatori dell'area se lo stanno chiedendo da qualche settimana dopo la presentazione da parte del comune dei rendering dello studio di fattibilità. A chi vive il mercato coperto di giorno come alla sera non è passata inosservata la conformazione della possibile futura copertura a livelli sfalsati. In caso di pioggia garantirà di stare all'asciutto oppure ci saranno dei punti dove l'acqua bagnerà gli astanti? Dubbi alimentati anche dalle esperienze attuali. La copertura di Via Roccavecchia mostra già il problema della fascia tra gli edifici in muratura e la tettoia. Un buco di un paio di metri da dove appena la pioggia aumenta di intensità l'acqua passa senza pietà bagnando i deor. Cosa potrebbe succedere se oltre a quella ci saranno dei dislivelli tra i pannelli della copertura? Quello presentato dal comune al momento è solo uno studio di fattibilità. Per valutazioni più precise occorrerà attendere un progetto più definito. Intanto resta la polemica sulla rimozione dei tigli, considerata necessaria per evitare che le radici continuino a danneggiare la sponda del naviglio. La consulta ambiente l'ha apertamente contestata, chiedendo una controperizia per dimostrare gli effettivi danni causati dagli alberi. Dagli ambientalisti però arriva anche una seconda osservazione che sa distoccata verso l'amministrazione. Il regolamento comunale impone ai cittadini che effettuano dei lavori in caso di abbattimento di alberi l'obbligo di piantarne in numero maggiore rispetto a quelli rimossi. Stando allo studio di fattibilità, l'intervento al mercato coperto invece prevederebbe una piantumazione in numero inferiore agli alberi da abbattere. La Giunta ritiene di essere al di sopra delle regole, attacca l'associazione Sostenibilità, Equità e Solidarietà. Non ci accontentiamo della ripiantumazione di nuovi alberelli in numero minore rispetto ai tigli rimossi. Grazie.